Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video, video che rientra nella categoria di quei video che uno sa che prima o poi purtroppo farà ma che vorrebbe, non dico mai fare, ma rimandare quanto più in là possibile. Non sono ancora le 6 del mattino nel momento in cui io sto registrando, sono sveglio già in realtà da più di un'ora e purtroppo una delle notizie più brutte che potevo immaginarmi di leggere al mio risveglio quest'oggi, ahimè l'ho letta. Io ho scritto anche su Facebook, io speravo fosse uno scherzo, speravo fossimo il primo aprile e non me ne ero accorto, speravo di essere capitato nell'ennesima pagina fake che pubblicasse bufa la ripetizione, ma purtroppo ahimè è tristemente tutto vero. E ormai da una settimana, il primo marzo, Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball è venuto a mancare. Se mi seguite da un po' di tempo, sapete che io non porto contenuti di Dragon Ball sul mio canale, ma ogni qualvolta che si è parlato di manga, di anime, di cose da otaku, io mi sono sempre autodefinito come il fan numero uno di Dragon Ball in Italia, in realtà credo che saremo almeno, non lo so, un milione di persone ad autodefinirsi così, come giusto che sia, naturalmente fa parte del gioco. E quindi questa mattina veramente questa notizia mi ha lasciato dentro un vuoto enorme. È molto difficile raccontare che cosa ha rappresentato Dragon Ball nella mia vita. Io ho iniziato a vedere Dragon Ball quando ero veramente un bambino, non andavo ancora all'elementari. Era la fine degli anni Ottanta e Dragon Ball all'epoca veniva trasmesso da una piccola emittente locale che si chiamava Junior TV e la prima serie, naturalmente, si interrompeva al secondo torneo Tenkaichi, prima dell'apparizione del grande mago piccolo e me lo ricordo molto bene perché c'erano sigle originali sia in apertura che in chiusura. Il doppiaggio era un po' quello che era, d'altra parte non è che ci fossero sì grandissimi fondi a disposizione all'epoca e mi ricordo i nomi di personaggi e di tecniche originali. Mi ricordo che era senza censure e da lì veramente è iniziato l'amore verso quest'opera. Poi diversi anni più tardi, amore che si riaccese diversi anni più tardi quando praticamente per caso passando in un edicole del supermercato, il mio occhio cadde nella sezione fumetti dove c'erano anche dei manga e vidi il manga di Dragon Ball, la primissima edizione della Star Comics, era il numero 24 per la precisione, me lo ricordo ancora, ho tuttora quell'edizione qui a casa, la costudisco molto gelosamente e da lì mi si aprì un mondo letteralmente, il mondo dei manga giapponesi, io lo scoprì proprio grazie a quel volume di Dragon Ball e da lì è diventata una delle mie principali passioni. Ebbi anche la fortuna di conoscere un ragazzo, due ragazzi che avevano la mia stessa passione sia per i manga che soprattutto in particolar modo per Dragon Ball. Entrambi questi ragazzi sono tra le altre cose i miei testimoni di nozze, adesso non li vedo e non li sento veramente da una vita purtroppo, letteralmente, per colpa mia tra le altre cose, anche se gli voglio ancora un sacco di bene. Tra le altre cose uno di questi due lo conoscete, o almeno chi mi segue per Captain Zubasa Dream Team indirettamente lo conosce o se lo ricorderà, io le primissime amichevoli che portavo sul mio canale proprio quando avevo appena iniziato a portare Captain Zubasa Dream Team erano le amichevoli con Panzolle, ecco uno di questi è esattamente lui che tra le altre cose lui è per metà italiano e per metà spagnolo. Perché vi racconto questo? Perché Dragon Ball in Spagna è arrivato molto prima che in Italia, mi riferisco all'anime in questo caso, in particolar modo quello di Dragon Ball Z. Noi con la Mediaset l'abbiamo visto, l'abbiamo avuto diversi anni dopo rispetto alla sua uscita, in Spagna era già noto, era già un fenomeno di cult già da diverso tempo in Spagna e in Francia. Ecco lui è per metà italiano e per metà spagnolo e io mi ricordo che quando andava in estate in Spagna a trovare i nonni poi tornava in Italia e aveva registrato un sacco di VHS con tutti gli episodi di Dragon Ball Z, la saga di Majin Buu in lingua spagnola e in lingua catalana, perché essendo di Barcellona veniva tradotto anche in catalano, compresi anche i vari film. Io i film di Dragon Ball Z li ho visti tutti praticamente prima in spagnolo che in italiano ed era bellissimo, il doppiaggio spagnolo mi ricordo che era fantastico. Poi mi ricordo che quando arrivò in Italia io ormai ero già abbastanza grandicello e non so perché a me il doppiaggio italiano personalmente non mi ha mai colpito più di tanto per colpa, penso più che altro, dell'adattamento e delle varie censure della Mediaset che è stata molto brava in alcuni versi tipo per le sigle di Giorgio Vanni che secondo me saranno veramente immortali per quello che riguarda appunto il legame con Dragon Ball e per altre cose invece pessime perché io tuttora veramente la storpiatura di alcuni nomi soprattutto dei personaggi non la capisco e non la capirò mai tipo per esempio che differenza c'è tra dire Krili e Krilin cioè una N ti cambia tutta esistenza questo è un discorso genelico naturalmente che non vale solo per Dragon Ball Akira Toriyama con la sua opera, con le sue opere perché io in realtà poi ho letto anche Dottor Slumperale e anche alcune breve storie, storie, storie minore con le sue opere ha condizionato in maniera molto importante la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia, perdono adolescenza la mia giovinezza, la mia, non so come si dice prima età, seconda età ha condizionato fortemente tutta la mia vita perché Dragon Ball è sempre stato uno di quei prodotti che nonostante la sua estrema semplicità oggi potrebbe essere quasi definito un prodotto banale ha comunque sempre trasmesso tanto a livello di emozioni a livello di valori insegnamenti in senso generale e ha avuto a mio modo di vedere il grande merito di sdoganare veramente il manga e gli anime un po' in tutto il mondo non è stato proprio il primo non si può dire che sia stato il precursore però è stato per fare un parallelismo un po' quello che è stato Michael Jordan per il basket o Hulk Hogan per il wrestling cioè è stata quell'icona che ha fatto conoscere tutto quel settore in tutto il mondo non solo in Italia ma letteralmente in tutto il mondo è stato l'ariete che ha sfondato Portoni, ha sfondato i cancelli di varie nazioni per permettere a tutto questo fenomeno culturale legato agli anime e manga di entrare ed espandersi e ovviamente gran parte di questo merito va ad Akira Toriyama e al suo staff ovviamente non ho la minima idea ma credo che oggi nessuno possa saperlo ma non è nemmeno tanto importante oggi sapere se poi le sue opere visto che comunque Ultra Dragon Ball aveva altri progetti ancora tuttora in ballo se proseguiranno o meno e come decideranno eventualmente di proseguire oggi non è oggi non è importante questa cosa a me premeva fare veramente questo video subito intanto come sfogo principalmente come sfogo perché veramente pur non avendolo mai conosciuto di persona ovviamente ovviamente come dicevo prima è stata comunque indirettamente una delle delle figure più influenti di di buona parte della mia vita uno che non ci è passato difficilmente lo potrà lo potrà capire molto 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 difficilmente lo potrà lo potrà capire però questo voleva essere semplicemente il mio ripeto in primo su uno sfogo e poi il mio mio piccolo omaggio per per lui e niente per oggi in genere siamo a venerdì di solito dovrei registrare i video su sull'aggiornamento settimanale di Dream Team ma direi che veramente questo può un attimino aspettare quindi un salutone ancora al maestro un grazie di cuore per tutto quello per tutto quello che ha fatto vi auguro buona giornata ragazzoni pace belli alla prossima grazie a tutti per l'anima per l'anima Grazie a tutti.